Ciao a tutti ragazzi, oggi arriveremo a 522 vittorie, quindi iniziamo Ok vai, guardiamo cosa ci esce Prince Splash, ok, buona mappa come inizio Siamo circa a metà, quindi dai Ehm, dai, intanto vi è piaciuto l'ultimo video, vi è piaciuto tantissimo l'ultimo video dove arrivava un tot di vittorie Che ha raggiunto sopra le 170 visualizzazioni, quindi lo rifacciamo Intanto, ragazzi, mancano 3 iscritti 500, perché non vi iscrivete? Eravamo arrivati a 505 iscritti, ora ne mancano 3 500 Quindi iscrivetevi perché allo speciale 500 iscritti ci sarà un bordello su sale Spinnate epiche all'infinito, spinnate rarie Stambo il passo, lo shopperò tutto, lo finirò, finirò le soglie Ci ho però skin comuni, prenderò quasi tantissime skin, quindi iscrivetevi Ok, intanto ora siamo in semifinale Ok, scusate, avevo un problemino, intanto humble stumble Questa mi voleva già fare i boy block Stiamo attenti ai fantasmi che oggi tutti i fantasmi mi sembrano tra yarder Allora, intanto quello ha preso la botta, quello che aveva al calcio, quindi benissimo Così non si qualifica Ora posso dare un pugno a lui perché mi dà noia, benissimo E poi ci andiamo anche a guardare se si è qualificato Quindi ora facciamo così Ci ho fatto stata male ma è qualificato Ok ragazzi, ora la finale, guardiamo cosa c'è Una delle mie mappe preferite ragazzi Sapete che sta mappa non ci esce così più? Non mi usciva mai, tipo, nei game normali Perché ora sono un po' abituato a fare server hackerati Vabbè Però ragazzi, visto che facevo server hackerati Io sono diventato un pro player, quindi Potrebbe essere già vinta questa partita, potrebbe Uh, bello sto pugno Comunque mi sa che quello che gli ho tirato il pugno prima Si è qualificato Allora, anche gli altri sono bravi Con le scivolate soprattutto Fate bodyblock al fantasma ragazzi Si è qualificato Qualificato Si è salvato Pugno Preso Qual è accaduto non si sa come Da, che cura, attraversate il muro raga Si è morto Quanto godo raga Quanto godo Ok Io ragazzi sono un pro perché Ho vinto il 9v1 block dash Anche Contro dei miei iscritti Quindi so già che vincerò Soprattutto Il 9v1 come l'ho fatta vincere Non lo so nemmeno io Intanto Guardiamo qui Intanto mi spammano il cancello Perché sanno che sto facendo il video Quindi cercano di rovinarmelo Intanto 6 su 7 Sto facendo un video Sto facendo un video Sì ma sto facendo un video Non devi spammare Ci trovo Ragazzi lui è quasi morto E si vince Ok ragazzi Seconda partita La prima è andata abbastanza bene Quindi guardiamo cosa ci esce Spiego round Iniziamo al volo Poi mi devo concentrare Ecco L'ho detto concentrare Almeno ci dovremmo qualificare Dai Scivolato Stato bene Nè però non dovevo Prendere la bastonosa Non dovevo nemmeno prendere questo Vabbè Posso perdere qui Vorrei provare No il trick non lo provo Provo a fare sto trick Body block O che ora devo giocare a serie Veramente Cristiano Dov'è Là Ok bene Ragazzi dai Qualificato Ok ragazzi Semifinale In super slide Bella mappa Anche qua mi sono allenato Nei server hackerati Per me faccio un po' Di tutto Nei server hackerati Anche lo stamp Lo space race Quindi per me Non sarà un problema Fare il trick Primo trick Fatto Ora Anche lui è bravo Questo trick fatto Dai Volevo provare a non toccare l'acqua Ma Non ci riuscirò mai Là devo fare degli allenamenti incredibili Vuole tirare il pugno Oh Primo l'ho fatto il body block Non è passato Raga mi sa che sto per fare il record mondiale Di sta mappa Dopo vado a vedere Se ho fatto il record mondiale di sta mappa Intanto qualificato Ok ragazzi Ora la finale in bot Beh Che mappa brutta Tipo bella ma brutta Brutta perché se tirano il pugno Sono nello schifo Però Ma io ora che ci penso Se tocco queste No ma erano bianche Non dovevano colpirmi Vabbè Tirare il pugno a qualcuno Uno è già morto Due sono già morti Pugno Devo abbracciare qualcuno E buttarlo fuori dalla mappa Lui Ma Cosa mi ha aspettato Stavo scherzando Ho ragione Ma di già Sono tutti così scarsi Ho capito che la nuova mappa Oh Come si salvava quello Ok Questo mi sembra forte Pugassi è forte Ci vedete pure da come cammina No raga è lag Lag no Udaie Ho vinto Quindi Spero che questo video vi sia piaciuto E vi saluto Ciao